furtarello furtarello grande grande serie a complimenti allora riguardiamo riguardiamo l'anatomia mondiale del corpo umano perché dal gol convalidato del milan poi stasera è successa quest'altra troiata perché me la dovete spiegare io l'ho riguardato cento volte cento volte ora voi mi dovete trovare un link con un frame che lui piglia il braccio perché la prende clamorosamente qui e poi gli rimbalza sul viso al braccio largo ma questa a casa mia è spalla cristo ma guarda che partita siamo andati a perdere vaffanculo vai voi gli arbitri di obono vaffanculo vai a chi decide stazzo di partite vaffanculo vai davvero andate a cagare andate andate a cagare andate andate a cagare andate un pareggio era un pareggio era pareggiata era pareggiata era pareggiata chiaro 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 porini perché non riuscivano a segnare chiaro e allora assegnamogli un rigore che non esiste assegnamogli un rigore che non esiste complimenti complimenti bravi grande grandi fenomeni grandi grandi fenomeni complimenti 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 partita da 0 a 0 era a finire così questo andava rivista i var e ovviamente l'arbitro lo doveva annullare perché non è mai braccio di milenkovic perché il braccio è largo perché c'è milenkovic che è un coglione perché cerca l'appoggio e il braccio è largo ma la palla gli finisce qui qui cazzo questa è spalla ma che mi tocca vedere puttana eba che poi coglioni noi siamo veramente dei dementi siamo siamo veramente dei dementi ma non per la partita di stasera per l'empole cazzo ma quanto siamo dementi quanto siamo dementi quanto siamo dementi cazzo che poi stasera fai una prestazione del genere convincente perché la lazio comunque ha giocato molto bene è stata pericolosissima in certi tratti della gara che più di noi ma tu li hai fatti andare addosso perché hai giocato veramente bene soprattutto il primo tempo hai giocato veramente bene cazzo gol annullato a beltrano palo di beltrano anche puttana troia e rigore regalata alla fine ora io vi ripeto trovatemi un frame linkatemelo mandatevelo dove cazzo vi pare tanto in descrizione di ogni video c'è sempre instagram quindi se non lo volete inviare qui lo volete inviare su instagram voglio vedere un link di un'immagine di merda di obono dove è chiaro che prende il braccio qua e non la spalla cazzo accidenta furti di obona ladri a tutto sto cazzo di mondo di merda ma dai ma dai ma dai ma dai ma dai ma dai come possa analizzare sta partita come fa ad analizzare sta partita dopo ho visto sta troiata finale come fa ma poi è il 94esimo cazzo non aveva segnato immobile dovevi farlo segnare stasera perché almeno facevano tutti la festa che culo che culo che culo ma vaffanculo vai ma andatevene a cagare vai io non voglio nemmeno da colpa a milenkovic poi per carità coglione perché cosa fai col braccio così in aria cercando un appoggio cosa fai cosa fai cosa fai anche te è ovvio che te la rubano in questa maniera e te lo fischiano è ovvio perché c'è il braccio largo in questa maniera però non si possano vedere ste cose non si possano vedere ste cose cazzo che vergogna che vergogna che vergogna siamo anche sotto calcio scommesse e che culo che culo facciamo tutte ste troiate così almeno dio bono già qualcuno e pensa chissà che cosa poi tu vedi della roba di genere e che cazzo vai anche voi andatevene a cagare ma cosa io non analizzo niente io smetto il video vaffanculo vai andate a cagare tutti dio bono vaffanculo ogni cosa domani live reaction se lo volevi vedere sul secondo analo è sempre le pagelle ma veramente c'è da incazzarsi fino a che si campa è per una roba di genere io ora lo riguarderò altre volte e nel caso cambiasse idea metto un messaggio qui sotto il video perché questo ovviamente a calda appena finita però l'ho vista anche 20 volte comunque su da zone perché l'ho vista su da zone la partita stasera perché ha deciso di me il giu immondo e quindi il segnale di sky è deciso di morire letteralmente fatemi sapere la vostra sempre forza bella a a a